e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace e la carità di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo per la potenza dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, siamo raccolti questa sera per fare la preghiera insieme tutti nella nostra comunità, ma anche in comunione con tutti quelli che seguono attraverso Padre Pio TV e la preghiera per prepararci alla solennità di Padre Pio. Oggi la liturgia ci fa ricordare la Vergine Santa addolorata e noi sappiamo quanto amore, quanta attenzione, quanta delicatezza Padre Pio ha sentito per la Vergine Santa, la mammina bella, la madonnella nostra, che l'ha accompagnato fin dall'infanzia, nel cammino spirituale, in quell'ingontro con il figlio suo Gesù. Oggi appunto vogliamo andare con il pensiero a questa devozione profonda di Padre Pio verso la Vergine Santa e vogliamo ricordarci che anche per noi Maria ha tanta attenzione perché ognuno di noi era presente in Giovanni il discepolo che Gesù amava, che era ai piedi della croce e al quale Gesù affida la mamma «Donna, ecco tuo figlio», come al discepolo dice «ecco tua madre». E vogliamo seguire l'esempio di Giovanni che l'Evangelo ci dice «la presa è con sé, la presa è nella sua casa». Noi la vogliamo prendere nel nostro cuore, anzi, vogliamo metterci sotto il suo manto per trovare misericordia. Quanto è bello quella preghiera che sembra ci viene riproposta, no? Di madre di misericordia e che possiamo rifugiarci sotto il suo manto soprattutto nelle difficoltà, nei problemi. E allora accogliamo questa parola che il Signore oggi ci dona e vogliamo portare nel cuore proprio invocando l'aiuto di Padre Pio un amore grande per Maria. L'unica speranza di tutta la nostra vita deve essere lei. Dal Vangelo secondo Giovanni Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa, Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Da una lettera di Padre Pio a Padre Agostino «Questa cara mammina seguita a prestarmi premurosamente le sue materne cure, specialmente in questo mese di maggio. Le di lei cure verso di me toccano la ricercatezza. Mi sento tutto bruciare senza fuoco. Mi sento stretto e legato al figlio per mezzo di questa madre, senza neanche vedere le catene che tanto stretto mi tengono. Mille fiamme mi consumano. Sento di morire continuamente eppur sempre vivo». «Togelando le matterne Guardian» Sento di morire outro Aro 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 O glorioso San Pio, fa che anche noi ci impegniamo ad amare e a fare amare la nostra Mamma Celeste, per sperimentare ogni giorno le sue premurose cure. Nel corpo della Chiesa, o buon Samaritano, di piaghe d'ogni sortà, sollievo premuroso di ogni sofferenza, tu buon Samaritano, rimani a noi vicino, conforto a chi è provato, aiuto ai sofferenti. Immagine di Cristo, segnato del suo sangue, effigie della croce nel corpo della Chiesa. Immagine di Cristo, segnato del suo sangue, effigie della croce, nel corpo della Chiesa. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi, per sua intercessione, che uniti costantemente alla passione di Cristo Gesù, possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e viveregna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Padre, al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Amen.